Il significato simbolico della caviglia. La caviglia è di base il legame, il ponte tra noi stessi e la terra, tra noi stessi e il mondo materiale. Tutti i problemi di articolazione della caviglia esprimono il conflitto della terra e di tutto quello che rappresenta la femminilità, il rapporto con la madre, il denaro, il lavoro, la sicurezza, simboleggia la proiezione della nostra capacità di decidere, di prenderci le responsabilità, perché la caviglia ci permette di muoverci, di esprimere la decisione, di cambiare posizione nella vita. Il suolo sul quale la caviglia appoggia, sostiene e sostiene tramite i piedi, rappresenta la realtà. La caviglia ci dà stabilità e ci dà mobilità, quindi è in rapporto con la realtà che percepiamo. Ad esempio le storte, le distorsioni rappresentano quasi sempre un rifiuto a conformarci a una direzione che ci viene imposta. Insomma, stiamo andando nella direzione sbagliata. Il nostro modo di appoggiare il piede e quindi di utilizzare la caviglia rappresenta la stabilità o la rigidità o la flessibilità delle nostre posizioni, perché la caviglia può essere rigida ma può essere anche flessibile. Rappresenta poi la capacità di saltare, il salto vissuto come rischio, cioè per così dire di non restare con i piedi per terra, di volare, permette il movimento del piede. Quindi i problemi di questa articolazione, metaforicamente, possono indicarci che la strada che stiamo percorrendo è sbagliata. Ad esempio, simbolicamente, potrebbe avvenire una slogatura, una frattura, che ci impone di fermarci e di riflettere. Ci sono persone che hanno frequentemente questo tipo di incidenti. Una caviglia debole, ad esempio, sono persone che hanno capacità decisionali deboli, che poi porterà alla distorsione, che esprime sempre una difficoltà a sopportare a se stessi, il peso della vita, quello che stiamo facendo. Quindi la caviglia ha queste caratteristiche a livello simbolico. Quindi, prestate attenzione, perché il nostro corpo parla, parla attraverso i simboli, parla attraverso una comunicazione simbolica. La caviglia si irrigidisce in modo innaturale, ad esempio, quando ci sono stress, tensioni muscolari. Quindi le tensioni della vita portano a un irrigidimento. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i miei canali YouTube, Liberati dei Narcisisti.